è solo di pro forma quello lì serve assolutamente a niente no lele quando sei arrivato lascia andare giù il dietro ti fermi e poi riparti vai fuori a fare l'altro così bravo dopo di qui o di là mi sembra che fa le cose a metà strada per quello che prima gli ho detto non chiudere prima del coso si è preso il ramo nell'occhio si ma puoi salire su di fuori dai dai su e vai via la testa è attaccato la moto la moto fa in piedi l'ho fatto fino ai giorni vedi la foto è attaccato la moto Vai! 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 Arrivi alla rete! Non lo avresti mai fatto! No, no, se non c'eri vero... In alcune cose non l'avremmo fatto! Eh? In alcune cose non l'avremmo fatto! Vai! Vai! Strambo la mano! Strambo la mano!